Questa è la casa, lì è bellissimo tutto, dopo ve lo faccio vedere. C'è già una cavalletta morta lì, ma che schifo, non andiamo a vedere. Andiamo dentro? Bellissimo, fu l'ucidere. Abbiamo la sala, guarda. Poi abbiamo la cucina, carinissima. Poi abbiamo il bagno. Poi mamma? Poi abbiamo qui lo specchio. Poi abbiamo la, 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 oddio, come, scusate, la camera da letto. E qui c'è l'ultimo pezzettino che anche lì giù c'è. Ok, raga, è carinissimo. Beh, ciao.